Emergenza Covid, sempre più sindaci salernitani affiancano il presidente della regione Vincenzo De Luca che ha chiuso le scuole. Un segnale forte arriva dalla costiera amalfitana dove ormai, dati sanitari alla mano, il 5% dei residenti risulta contagiato dal coronavirus. Per questo motivo nell'ultima riunione della conferenza dei sindaci le fasce tricolori della Divina hanno deciso all'unanimità di chiudere le scuole per tutto il mese di gennaio. Niente lezioni in presenza dunque e il ritorno in classe previsto non prima di inizio febbraio. Provvedimento adottato all'unanimità in considerazione dell'aumento dei casi. Intanto prosegue la campagna vaccinale su tutto il territorio, ritmi sostenuti un po' ovunque anche nell'agro dove è rimasto operativo il presidio di Sarno. Abbiamo attraversato veramente un lungo lungo periodo di enormi difficoltà, di sacrifici tesi al mantenimento in vita di questa unità operativa perché come medici a tempo pieno eravamo rimasti solo in tre. Un numero assolutamente irrisorio contro un fabbisogno teorico di un dirigente responsabile che sarei io più sette dirigenti medici a tempo pieno. Eravamo in tre soltanto quindi siamo sopravvissuti grazie al supporto dei colleghi del Santo Bono che venivano qui a fare turni di guardia. I contagi intanto continuano a salire e si moltiplicano le chiusure di attività e locali. A Salerno è interdetto lo stadio Vestuti dove il risultato positivo l'ha detto alla manutenzione di cui la decisione di sospendere tutte le attività dell'impianto sportivo.